Come sempre, quando le cose vanno male, se non malissimo, ci troviamo qua per raccontarcela un pochettino. E questa volta forse siamo al massimo delle cose che stanno andando male, ragazzi. Aspetta, aspetta. No, beh, poi si può andare sempre peggio, però sicuramente non si sta andando bene. Intanto come state? Cavolato. Ok. Altri sentimenti li abbiamo? Sì, io mi sto riprendendo che l'altra volta ero andato a giocare a padel e mi ero fatto male a una caviglia, quindi sono in fase di recupero. Sì, vabbè, ma questo ci interessa poco e niente, direi, in questo momento. Come sto? Sto meglio. Qualche giorno fa stavo peggio, scusa. No, lato Juve. Ebbè, lato Juve, insomma, uno dice cazzo c'è rimasto solo il campo e vedi il campo e dici aspetta, cosa c'è rimasto? Rassegnato, rassegnato. Domanda scontata. Avete letto le motivazioni della sentenza? Di sfuggita, sì. Ok, allora, provo a fare io un cappello introduttivo. Volete andare voi a ruota libera? Fermo restando che mi preme focalizzarci su una cosa, cioè nessuno di noi quattro credo che abbia un'istruzione in materia e che quindi tutto quello che diremo saranno percezioni, no? Saranno cose che abbiamo capito, compreso, ma non la verità assoluta, per quello ci sarà, penso, la difesa della Juventus. No, guarda, Lu, vado io che credo di essere quello che ha letto meno, perché non ho avuto tempo di farlo. Ovviamente lo farò nel dettaglio, così intanto mi correggete se sbaglio, se ho capito male qualcosa da una prima lettura. A me sembra che innanzitutto non ci sia nessuna nuova evidenza particolare che abbia fatto, insomma, spalancare gli occhi e dire ok, aspetta un attimo che forse effettivamente questi avevano ragione a darci 15 punti. Confermato il fatto che la Juve non è stata punita per l'articolo 31, ma per l'articolo 4, quindi si è andata a toccare di fatto la lealtà sportiva, vedo che mi stai già dicendo di no. E comunque mi sembra di aver capito anche che il famoso libro nero di Paratici sia stata una delle cose, insomma, sia stata un po' la prova regina che ha, insomma, messo all'angolo la Juve. Cioè questo è quello che io ho un po' capito proprio da una lettura di alto livello, in modo un po' superficiale. Allora, vorrei magari utilizzare questo tweet che ho fatto, vediamo se si vede in questo modo meglio o qualcosa, sì. È una delle pagine della sentenza che mi sembrava giusto evidenziare, perché dice sul materiale probatorio il primo tra tutti è il libro nero di FB, Fabio Paratici, documento che secondo la Juventus è un normale appunto di lavoro, invece secondo la Corte è un contenuto troppo esplicito e quello che fa la differenza è il contesto nel quale è stato redatto. E già qua mi viene un brivido perché pensare che questo sia il primo tra tutti del materiale probatorio è focalizzato su un contesto in cui la Juve lo definisce in un modo, la Procura e la Corte in un altro. Vediamo un attimo cosa succede. Questo libro nero in cui è evidente che Chirubini era pronto a contraddire Paratici per discutere il proprio contratto. Quindi questo libro che viene utilizzato per una differenza di vedute tra i due dirigenti, ex dirigente e dirigente della Juventus. Beh, che col senno di poi hanno dato ragione anche Chirubini considerando che uno è stato mandato via e uno no, o stando... Sì, allora dopo su questa roba ci tornano tra l'altro e dice l'accusa e anche la Corte. È chiaro che nello scrivere il libro nero di Fabio Paratici, Chirubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. Però ricordiamoci che la differenza la faceva il contesto. E questo ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Concludono dicendo che il libro nero costituisce un oggetto oggettivo non equivocabile. Quindi Juventus l'ha definito in un modo ma quanto pare non è equivocabile. E nello specifico c'è la violazione dell'articolo 4,1 e dell'articolo 31,1. Per quello che prima ti dicevo di no. Fanno riferimento a due articoli. Però qui a me viene un attimino, no? Voi voglio capire anche secondo voi cosa ne pensate. Perché tanto l'argomento principale è questo foglio, questo libro nero, un foglio a quattro, questo qui. Non ho idea di cosa ci sia scritto. Qui mancano anche delle X tra l'altro che di solito sono spesso e volentieri citate. Quindi probabilmente a pagina due di questo libro nero che io mi sono sempre immaginato come, boh, veramente la cazzo roba dove c'era riassunto Beautiful. Invece è un foglio a quattro. Quindi è un foglio a quattro dove mancano delle X perché questo è quadrato, il foglio a quattro è un pochino più rettangolare, forse sono in basso. Compilato effettivamente da Cherubini, dicono, in cui c'erano delle cose da sistemare e c'era la strategia su come sistemarle, no? Quindi questo è un po'. Poi vado avanti perché l'articolo 4, che era quello che citava prima Matte, dice che bisogna seguire i principi della lealtà e della correttezza sportiva. Ma, violando l'articolo 4, si va all'articolo 8,1, lettere A, B, C e G. L'articolo 8, A, B, C, ammunizione, ammenda, diffida, G, penalizzazione di uno o più punti in classifica in termini di afflittività. Che è un po' quello che è accaduto alla Juventus. Un po' in realtà perché... No, 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 certo, è quello che è accaduto. Invece l'articolo 31 parla di violazioni in materia gestionale ed economica, ok? Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, alterazione o falsificazione materiale e ideologica anche parziale di documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva. Però aspetta, scusa, scusa, questo è il 31.2, come si evince. Sì, certo. La Juve non ha fatto il 31.1? Certo. Lo so bene. No, è un pochino, lo vedi? Io te le ho messe tutte perché questo è il 31.2. Io te le ho messe tutte, vedi? Però lì c'è scritto 31.1. Lo so, lo so. No, no, era proprio per... Io sono tornato all'otto, chi ha questi commi, queste possibilità, tra cui la retrocessione e l'esclusione, ovviamente chi non fa notare non è quello, e invece l'articolo 31.1 non è previsto niente. Sono sanzioni, esattamente. Quindi significa che esiste un articolo specifico per quello che ha fatto la Juve, e un articolo un po' più generale, che va a riprendere l'alterazione della lealtà, ma viene applicata la punizione per l'articolo meno specifico rispetto a quello che invece c'è una specifica. Questo è quello che mi pare di aver compreso da ignorante. Sì, ed è anche quello che ha praticamente sollevato Paco Donofrio fondamentalmente. Che è l'avvocato che c'era a Juventus prima, vero? Mi scriveva nei commenti. Sì, che praticamente poi lui ha fatto un esempio dicendo che se io parcheggio sempre in divieto di sosta, non posso andare in galera come se avessi ammazzato uno, al massimo pago il divieto di sosta per X volte. Che è un po' le domande che mi stavo facendo prima, che voglio riportare, perché dico, la domanda che mi sporge spontanea è, va utilizzato l'articolo 4 o il 31? Perché entrambi rimandano all'otto, ma per le punizioni con i commi sono differenti. Quindi l'articolo 4 parla sì di principi della lealtà, il 31 di alterazioni di materiale, e quindi qual è la colpa della Juventus? Per questo, infatti, a inizio video ti dicevo che secondo me è stata punita, io parlo punita, ovviamente, a livello di penalizzazione dei punti, alla fine solamente per l'articolo 4, perché il 31,2 non è nemmeno citato. Esatto, ma è per quello che io ti dicevo no, perché loro comunque... E' il punto G che riguarda la penalizzazione dei punti, no? Quindi è solamente, è proprio confermato che è solamente l'articolo 4 riguardante la lealtà sportiva, è quello che intendevo all'inizio video. Che poi ci fosse la violazione anche del 31 era evidente, ma non era quella... Cioè, il 4 è stato il motivo per cui è stato richiesto il processo della Juventus con delle prove che erano state considerate appunto ineccepibili e indiscutibili ed è il motivo per cui è stata richiesta la penalizzazione. Però a me sembra, come scrivevo, che ci siano due articoli, uno molto aperto, che vuol dire, la mia personale interpretazione è tutto e niente, e uno più specifico, dove c'era la penalità, e invece è stata utilizzata la punizione di un altro articolo dove ci può entrare qualsiasi cosa, perché tutto può andare a distruggere la lealtà sportiva. No, ma poi alla fine, Luca, fondamentalmente è i dubbi che ha un esperto di diritto sportivo. C'è troppa discrezionalità da parte del giudice nell'interpretazione di quello che potrebbe essere un reato, perché tutto può essere coinvolto, cioè, in qualsiasi fattaccio può essere messa in mezzo la lealtà sportiva, cioè, in qualsiasi fattaccio. Cioè, io lo faccio corrispondere là, poi ti do una penalità anche là, la penalità che va da zero e infinito. È come che ti dicono, Lu, tu per eccesso di velocità in una tua strada puoi prendere una multa che va dall'uno al... quanto cazzo mi pare. No, è peggio. E qui da che il giudice ti sanziona. È peggio. È peggio, Lello, perché nella motivazione c'è scritto che la plusvalenza di per sé non costituisce un illecito. Però, averne utilizzate così tante fanno diventare la Juve colpevole e lo fa cadere nell'articolo 4. Quindi non c'è una punizione materiale per quello che si sta contestando, però averlo fatto tante volte diventa antisportivo. L'interpretazione da parte del giudice di un comportamento reiterato, atto a ledere quella che è la lealtà sportiva nei confronti degli altri, ma non è così. Cioè, ognuno guarda in casa propria e non lo fa per danneggiare gli altri. Nello fa per appropriarsi dei vantaggi competitivi rispetto all'altro. Mi fa strano. Attenzione, che non sia così io non lo so. È quello che ho capito io, ma più che altro banalmente mi viene da dire. Quindi Juventus faceva operazioni perché un altro dei punti è però Juventus lo faceva sapendo che i valori erano più alti. Quindi Juventus faceva una trattativa con un altro club, andavano bene entrambe le valutazioni, però soltanto Juventus era quella che sapeva di fare il prezzo differente. perché ci sono tutte riportate le operazioni, cioè la prima che mi viene in mente banale è quella di Rovella con il Genoa. Quindi il Genoa non pompava la valutazione di Rovella perché non c'è un libro nero in cui i dirigenti scrivevano delle valutazioni e non c'è l'intercettazione all'interno sapevano che... quindi allora stiamo facendo giustizia. È la prova, è la prova, è la presenza della prova, è la presenza della prova. Ma che è stato sentito, è stato interpellato sulla creazione di questo libro nero? O hanno preso quella prova decontestualizzandola, dandogli un'interpretazione propria senza un contraddittorio difensivo? Ma più che altro, guarda, io non so, magari ne abbiamo sentite talmente tante, ma da quello che mi ricordo, e poi posso sbagliarmi, da quello che avevo capito, Cherubini aveva dato una motivazione che tipo risultata lui più di 30 pagine solamente su quella cosa lì. Alla procura di Torino, cioè loro non è che hanno parlato Cherubini sul lato sportivo. Tu prendi praticamente le tesi dell'accusa, le tesi dell'accusa che non sono ancora state poi neanche portate in sede di giudizio nel Tribunale Ordinario per dire quell'intercettazione è valida, questa prova è valida perché non c'è nulla. Hanno preso parti delle prove e di tutto il materiale probatorio che ha in mano la procura di Torino, ne hanno tirato su un caso e lo hanno sbattuto sulla giustizia sportiva. Più che altro, ti corrego su una cosa, dice il documento. Tale documento, il libro nero, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore Federico Cherubini ed è stato difeso dalla Juventus che unitamente al proprio dirigente ha fatto proprio solo proponendone un'interpretazione diversa rispetto a quella della procura federale. Quindi sostanzialmente Juventus non ha mai detto no, non è nostro, Cherubini non ha mai detto no, non l'ho fatto io, lo sanno, ma Juventus dice è un appunto di lavoro. È da appunto di lavoro, invece il contesto, secondo la sentenza, lo fa diventare una prova. Ma più che altro, ci sono rimasto malissimo. Quella secondo me è l'unica cosa veramente che a me un po' torna, perché sai, se tu interna me, è chiaro che la Juve deve cercare di portare acqua al suo mulino anche per difendersi, quindi ci sta che magari la mette da questo punto di vista, poi magari il fatto, però è lo stesso Cherubini che l'ha chiamato libro nero e questo comunque va già a enfatizzare il fatto che insomma, se lo chiama Cherubini libro nero all'esterno come risulta, quello che voglio dire è semplicemente che però qual è l'illecito? Cioè qual è l'illecito? Cioè il punto è quello? No, 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 attenzione, attenzione, cioè c'è qualcosa che non mi torna, sto dicendo che però come dire la giustificazione al fatto di dire queste questo ricorso e le plusvalenze è stato fatto veramente in modo continuativo e sistematico come dicono loro, il fatto che ci sia un libro questo famoso libro nero di Fabio Paratici che è di fatto un elenco di tutti gli errori gestionali e amministrativi commessi da Fabio Paratici attenzione, apro una parentesi che è molto importante però che però errore non significa che è illecito è quello che dicevo io l'altro giorno quindi quella è una sottolineatura fondamentale che vuoi la programmatica nel senso che lui non approvava il player trading come sistema sostenibile sul lungo periodo per tirare fuori degli elementi pratici anche del passato per tirare ad acqua il proprio mulino in sede lavorativa soprattutto se sei uno sparring partner di Paratici da lì a poco si sarebbe deciso sia sulle sorti di Paratici che sulle sorti dello stesso Cherubini ha portato acqua il proprio mulino per difendere la propria posizione lavorativa non per difendere un illecito ma io non sto cioè lungo da me dire questa cosa qua denunciare questa cosa io sto semplicemente dicendo che nei momenti in cui la giustificazione della Corte Federale alla penalizzazione alla Juventus è c'è un ricorso sistematico ad operazioni sbagliate loro come dire il link a questa prova ce l'hanno che è questo libro nero che è questo elenco poi da qui a dire che è un illecito sembrerebbe non essere un illecito perché non c'è una norma che dice loro dicono loro dicono n operazioni in questo modo per noi hanno rappresentato un illecito perché slealtà sportiva va a intaccare la lealtà sportiva questo è quello che dicono io ti faccio un esempio un esempio banale a livello mediatico adesso la Juve viene presa di mira perché c'è questa inchiesta eccetera altre volte abbiamo notato che certi dirigenti per rientrare in quelli che sono i parametri del freplay finanziario hanno dovuto per forza di cose insomma utilizzare lo strumento delle plusvalenze per aggiustare i bilanci tra cui anche lo stesso ausilio addirittura c'era una cifra prestabilita entro la quale bisognava rientrare in termini di plusvalenza ma la cosa bella è che lo dicevano i vari siti di informazione servono x milioni di plusvalenze per ma attenzione ma non è che la colpa è dei siti di informazione che lo dicevano perché è normale che alle società servano queste cose si è sempre saputo e si sono sempre fatte quelle operazioni sapendo che serviva farle quindi la colpa della Juventus è averle fatte sapendo di farle però ci devono essere delle prove e non possono essere le intercettazioni no no aspetta perché l'intercettazione io pensavo venisse usata come prova ed ero scandalizzato da questa cosa perché non puoi usare l'intercettazione come prova l'intercettazione va di fianco alla prova ma qua la prova è un foglio che non va a confermare l'illecito scusami era solo proprio questo il punto che secondo me è follia tutti insieme no però a conferma di quello che dite nel senso anche l'accessione di McKennie l'altro giorno fra me e me leggendo le cifre dicevo caspita che bella operazione che abbiamo fatto che bella plusvalenza poi ho detto aspetta che se la dico ad alta voce faccio una prova in più però obiettivamente il concetto della plusvalenza è sempre stato visto come un'operazione come dire favorevole e positiva da un punto di vista da un punto di vista finanziario lo è lo è perché se tu vendi un qualcosa riesci a vendere un qualcosa a un prezzo superiore rispetto a quello che è il suo valore residuo di ammortamento è naturale che sia una cosa positiva è benefico per il bilancio per cui effettivamente ragazzi è una cosa abbastanza strana e pensa quando rischia di essere di più di 30 milioni per McKennie tra l'altro cioè vi faccio un esempio io gioco a Magic io gioco a Magic Magic ha un mercato interno una valutazione ci sono delle carte che sono all'interno di una lista che si chiama Reserved List che è stata battezzata quando è nato il gioco per fare in modo che la gente comprasse queste carte e riuscisse a dare una possibilità a Magic che non verranno mai più ristampate mai più quindi io le ho comprate all'epoca o non ce le ho più e ovviamente con gli anni queste carte salgano di valore io ne avevo ok magari le ho comprate a 100 euro l'una oggi costano 400 euro l'una mi è capitato di scambiarle più volte con altre carte per arrivare a quel valore di 400 magari più carte per quella roba lì e io sapevo di darle via con un valore gonfiato rispetto a quello d'acquisto l'ho fatto anche tantissime volte secondo questi principi io sono colpevole sono colpevole è cazzito voi no hai capito ma non c'è una norma che mi fa dire che io non me le posso scambiare quelle carte con dei valori più alti valori gonfiati sapendo di averle date via più di quanto le ho pagate sì magari te non hai il bilancio di Magic che ecco no d'accordo va bene però se tornando al discorso se la Juve ha fatto questo errore dell'articolo 31 d'accordo puniscimi secondo quelle che sono le valutazioni dell'articolo 31,1 non di un altro articolo in cui puoi inserire qualsiasi cosa perché magari diciamo che è illecito è antisportivo avere uno stadio di proprietà magari questo va a ledere la lealtà della competizione perché la Juve ce l'ha gli altri no vi faccio una domanda io da ignorante in materia ma io sono il più ignorante questo può essere considerato un vizio procedurale a cui attaccarsi in sede di appello per cui quindi la sentenza e il processo deve essere ripetuto e quindi la corte di giustizia del CONI può farlo ripetuto cioè questo qua può essere considerato un vizio procedurale il fatto che non ci sia effettivamente un illecito e che la somma di n operazioni diciamo così losc sbagliate abbiano portato a un illecito cioè può essere considerato un vizio procedurale più che più che altro guarda proprio lo stesso Donofrio parlava della questione dei due articoli anche lui parlava di quello in Trieri parla ha parlato anche lui è un avvocato un avvocato e qual è la questione dei tuoi articoli Kino? Di fatto è quella di prima è quella semplicemente di prima sì sì ci sono due articoli uno più specifico uno più aperto vai a prendere quello più specifico non vai a prendere una parte di uno e poi un altro più aperto perché c'è una valuta perché c'è una punizione differente no oltretutto la situazione è questa se io davo non ti chiamo a quanto pare te la faccio molto spicciola ti chiamo in tribunale per furto non puoi uscire con un'accusa di omicidio cioè con una sanzione di omicidio cioè questo è anche il senso cioè non c'è stata coerenza rispetto a quelle che erano le richieste iniziali a come poi insomma c'è stata questa evoluzione qua si è arrivata ad un'altra sentenza per altre cose per lealtà sportiva cioè tu mi devi fare un processo sulla lealtà sportiva dove io sono in grado di difendermi non è che partiamo da una situazione legata all'articolo 31 che parlava di questioni amministrative e poi vai a sfociare sempre nella lealtà sportiva infliggendo la sanzione cioè parlano di questo però ragazzi sapete molto spesso anche nei tribunali si creano dei precedenti questo potrebbe essere il famoso primo elemento di situazione non so se la Juventus avrà argomenti consistenti io più che altro credo che la Juventus abbia buoni elementi eventualmente anche per rifarsi in sede di tribunale l'ordinario rompendo quella che è la clausola compromissoria della serie non accetto più di essere giudicato da questo tribunale sportivo e vado in quello in quell'ordinario a fare giustizia perché tante cose non mi quadrano né le procedure del processo sportivo stesso e né nei contenuti del processo sportivo stesso a quel punto poi sul filone plus valenza perché poi nell'ordinario per esempio è contestata Artur Piani c'è una di quelle contestate dalla giustizia sportiva non è stata tenuta conto per esempio nella giustizia ordinaria non so che cosa potrebbe succedere eventualmente se la Juve si rifà o se può essere anche l'interruzione del campionato cavolo io comunque da questa cosa mi porto a casa due punti cioè il primo punto è che comunque neanche in questo caso si arriverà a un regolamento per stabilire un sistema di plus valenza un sistema di valutazioni perché Juventus non sta pagando per la plus valenza loro ci tengono a sottolineare la plus valenza la puoi fare quindi significa che comunque il sistema calcio così come lo conosciamo va bene significa che va bene allora giunti a questo punto il secondo punto l'articolo 4 non mi parla di come io vado a infrangere questa realtà sportiva quindi il danno il danno ce lo siamo fatti noi stessi nel senso che l'abbiamo visto poi che con l'inizio del sistema delle plus valenze la Juve non di trarre dei benefici e di consolidare una certa leadership ha iniziato a perdere quello che era il gap con le altre perché la macchina è diventata insostenibile ha dovuto mettere i quattrini di tasca c'è scritto sulle carte c'è scritto sulle carte nelle intercettazioni c'è scritto che con la plus valenza che è legittima hai un beneficio immediato sul bilancio ma che poi i costi del mortamento diventano pesanti che è esattamente quello che Cherubini faceva notare a Paratici e quando parlano di tutta la merda che c'è sotto sono le operazioni che negli anni sono diventate pesanti da gestire che è quello che dicevano sì dai via piani ci fai 75 milioni di plus valenza però adesso hai Arthur che ti costa 20 milioni ogni anno e c'ha un ingaggio insostenibile quindi questo è stato un modo in cui la Juve ha utilizzato un privilegio tramite questo modus operandi la Juve ha ottenuto un privilegio economico che si tratta di un privilegio sportivo perché a me pare evidente dire di no e secondo me queste sono cose su quale dovranno dibattere però sai che non entreranno nel merito su questa roba lo so ma come fai a difendertelo su questa cosa quello è già finito è per quello che io credo che sia un inizio che è paragonabile a quelli che fanno in Iran quando tu sei colpevole sei colpevole punto e basta e non hai possibilità di difenderti né tempo per difenderti perché poi tutta questa cosa è stata fatta in fretta e furia da un processo che doveva riaprirsi e poi continuare magari in altre sedute ecco mi sarei aspettato questo è stato fatto tutto in un giorno si riapriamo il processo si infliggiamo i 15 punti e poi magari è stato fatto in un giorno è stato fatto in due ore esatto in 4-5 ore totali tutto quanto dalla riammissione alla vi faccio due domande secondo voi Juventus da questa lettura delle motivazioni esce soddisfatto oppure no boh non so onestamente c'è materiale per lavorare dici cazzo considerando che sono avvocati presumibilmente lautamente pagati mi auguro di sì mi auguro analizzino anche il buco del culo della carta con cui è stato emesso carta Ronaldo intendi no tutte le carte ce ne sono che ne vuoi penso di sì che ci sia del lavoro indubbia mi auguro quanto meno molto dipende anche da quanta volontà effettivamente ci sia indubbiamente credo di sì però secondo te l'avvocato della Juve leggendo queste cose si sta sfregando le mani dicendo ho una possibilità o sta dicendo siamo spalle al muro non ce ne facciamo niente secondo me non c'è niente di nuovo rispetto a prima quindi sono un po' nella stessa situazione è chiaro che tecnicamente andranno a spulciare qualcosa che possa far comodo a livello proprio tecnico proprio in termini illegalesi per intenderci ma a livello di contenuto e di ciccia che è uscita credo che la reazione sia la medesima nostra cioè ok roba che sapevano già quindi sotto un certo punto di vista forse magari si stanno un po' sfregando le mani e ce la sapevamo noi figurati no perché tutte le volte io continuo a dire aspetti alle motivazioni aspetti alle motivazioni ma quante volte ci è venuto da dire oh ragazzi sarà l'articolo 4 e butteranno tutto lì dentro cioè l'abbiamo detto mille volte effettivamente è andata così anzi c'è un altro articolo che è più specifico ma quello non lo prendiamo in considerazione prendiamo in considerazione il 4 che possiamo mettere tutto lì cioè mi sembra che l'avvocato la Juve oggi possa avere delle cose su cui lavorare per un potenziale ricorso no? sembra che si ma secondo me le aveva indipendentemente da queste motivazioni cioè questo che voglio dire le aveva già le aveva già ma che poi di fatto inizialmente quando proprio tutto era nato che cosa aveva chiesto chi ne è? neanche un milione di emenda all'inizio proprio? pensiamo si cambia i repentini con i nuovi elementi trovati per chissà chi è chissà chi è il burattino che muove i figli e sarebbe bello saperlo chi è perché io sono convinto che anche chi ne è fa parte poi di quel sistema lì no ma più che altro è anche bello che anni fa ma non è che si parla di secoli fa un falso in bilancio appurato consisteva in 90.000 euro di ammenda quindi posso dirvi una cosa è una provocazione proprio veramente una provocazione perché prima chi non faceva notare giustamente diceva eh no c'è scritto articolo 31,1 perché se tu leggi l'articolo 31,2 ti si affronta sei in B sei in B puoi essere in B puoi essere escluso dal campionato e allora mi sono chiesto se tu vuoi per forza di cose farlo ricadere nell'articolo 4 quindi la penalizzazione e non nel 31 che è più specifico non è che la Juve forse sarebbe un danno troppo grande anche per chi l'ha richiesto e quindi delle due penalizziamo le basta perché questa è una cosa che mi è venuta a pensarla perché il 31 è più specifico voglio andarla a punire bene nell'articolo 8 del 31,2 va sull'8 e c'è penalizzazione uguale lo stesso perché è lo stesso comma del 4 più retrocessione più esclusione nel campionato cioè ragazzi secondo me ci sono due cose che sono oggettive la prima è che la dirigenza Juve negli ultimi tre anni ha commesso degli errori ha fatto dei pasticci ce lo sono detti qua è un dato oggettivo e non solo errori perché se andiamo sul filone stipendi ci sono anche degli illeciti in bilancio quindi è più che un semplice errore è un illecito ok sul bilancio una paura fottuta benissimo il secondo dato oggettivo è che questa delle plusvalenze è stata una sentenza politica punto poi possiamo parlare ragazzi di questo entrare nel merito ma allora è un illecito questo come lo vedi Mimu ma ma questa è stata una sentenza politica bella e buona e la scelta di Elkan di mettere un governo tecnico passatemi il termine a capo della Juventus è dettato dal fatto che Agnelli negli ultimi anni si è fatto nemico mezzo mondo e questa è la tra virgolette punizione vendetta che viene fatta da un sistema composto da persone che non conosco e che sono arrivate a dare una sentenza affrettata priva di senso su un processo chiuso chiuso in cui la Juventus è stata assolta addirittura in secondo grado processo riaperto in due ore richieste di nove punti me ne dai quasi il doppio 15 è una sentenza politica finito è per quello che ti facevo quella domanda per cui cioè nel senso la cosa della serie B dico sì cioè ci può stare ci può stare cioè come dire intanto ti punisco perché cioè è proprio la vendetta che io faccio perché devo prenderti te come esempio perché devo dare questo segnale qua cioè questa roba qua è veramente evidente che poi sulla parte degli stipendi siano stati fatti degli illeciti anche gravi perché il falso di bilancio non è uccidere una persona ma è sicuramente da un punto di vista contabile specialmente se sei quotato in borsa perché però voglio fare un processo penale per aggiuntaggio no certo è quello di cui stiamo parlando esattamente questo esattamente questo no cioè tu punendo la Juventus stai punendo tutti i tifosi della Juventus stai punendo la squadra voglio dire quindi queste due cose cioè che la Juve abbia commesso degli errori qualcosa più di errori questo è appurato è certo è scritto che questa qua del plus valenza sia stata una sentenza hai detto bene tu è stato un processo impacchettato per la Juve dai è stato messo lì impacchettato con il fiocchetto bianco nero ed è stato consegnato a Torino cioè punto finito ma un altro aspetto che voglio calcare su questa roba che ha detto Davom è legato sempre ai precedenti come diceva Kino vi faccio un esempio il Chievo è stato mandato in bip con tre punti di penalizzazione tre per aver scambiato giocatori che non esistono non esistono io non capisco neanche qual è la sproporzione da tre a quindici quelli là scambiavano Davom Colpo Gobbo Kinoci e Toselli come calciatori venduti al Cesena perché c'era questo questo interscambio giocatori mai tesserati mai esistenti noi non siamo andati neanche a Cesena a giocare eccetera hanno creato una plusvalenza per tenere a galla il bilancio e per l'iscrizione alla Serie A dell'anno successivo tre punti questa volta quindici mi pare che ci sia una sproporazione in base alla potenzialità che ha la Juventus perché se la Juventus fosse stata una squadra probabilmente di bassa classifica non con questa nome eccetera l'entità del danno c'è scritto sì esatto e già quello mi fa girare gli zebbi dei per quanto riguarda anche la manovra stipendi Davom io sono d'accordo perché il GIP ha detto ci sono delle situazioni che vanno valutate qui in un processo il problema la domanda che mi pongo è la seguente come fa un tribunale sportivo a emettere una sentenza prima di quello ordinario su una situazione altamente tecnica altamente contabile richiede anni e anni di dibattimenti con gente che non è preparata di più come può un tribunale sportivo fare una sentenza di merda come quella che hanno fatto l'altra volta che dura 4-5 ore e arrivare poi ad una punizione ad una sanzione con quali elementi con quali competenze con quali cioè quali sono i diritti che vengono dati all'accusa all'interpesa con quale potere cioè è una roba ragazzi è tutta politica ma è tutta politica perché un tribunale sportivo fino a che non c'è un reatto acclarato nel tribunale ordinario non può infliggere sanzioni su questioni amministrative di cui non ha minimamente competenza è grave questo aspetto però attenzione che adesso si apre un discorso molto delicato perché la domanda che vi faccio è ce li tolgono questi punti sì o no la prima e la seconda questione stipendi perché perché se ce li tolgono non ce li tolgono fa tutta la differenza del mondo se ce li tolgono e secondo me ce li toglieranno alla luce di quello che è emerso oggi e il ricorso andrà a buon fine dato che è stata chiesta una proroga per la questione stipendi servirà verosimilmente intorno alla fine del campionato e se dovrà esserci una pena afflittiva afflittiva in base a che cosa? Sulle coppe europee o sulla permanenza nella massima lega perché avere i 15 punti non averceli va come diceva Lello a seconda di dove ti trovi in classifica per quello che stai lottando deve esserci una pena quindi se non ci ridanno i 15 punti e arriva la fine del campionato deve essere afflittiva rischi che ti mettano un punto sotto quella che è arrivata terza ultima perché anche qui vuol dire tutto vuol dire niente afflittiva in base a che cosa? Quindi secondo me qua c'è della ciccia grossa perché per quanto mi riguarda la combo ti lascio i punti più a fine campionato faccio la sentenza stipendi davvero può portarti alla serie B non so se è una lettura che sto dando io negativa dobbiamo uscirne male ma io la serie B me la auguro nel senso a sto punto vogliamo far andare le cose ancora più male cioè io sono di quelli non capirmi male nel senso a me non me ne frega nulla di rimanerli a galleggiare in serie A con tre anni fuori dalla coppa trattato male come se fossi la pecora nera può infliggere le sanzioni bene ce ne andiamo in B io ve lo dico già saremo gli unici a pagare ne risenterà tutto il sistema calcio poi ne ripariamo fra due o tre anni punto la prendo molto comoda io credo che la Juventus in Italia possa tornare a primeggiare perché a spalle grande è una proprietà che ha denari non so se gli altri senza di noi possono essere in grado di autosorreggersi perché già ora vanno male senza di noi andranno ancora più male però andarci con un testo a croce in base a semi approvano o meno approvano un ricorso basato su elementi che non si mette male alla sportiva in generale e ai principi che la dominano perché tu non puoi fare le sanzioni in base a come Davom a come Luca o come Kino se Davom ha 10 punti in classifica banalmente la legge è uguale per tutti cioè deve esserci un regolamento che dice hai fatto questa cosa ti becchi 30 punti ti becchi 20 punti ti becchi 5 punti ma che cazzo è e non se ne fai di più se ne fai di meno se ne fai di meno va bene avrai una pena minore allora mettiamo un numero mettiamo un numero di trattamento cioè mi sembra tutto così astratto cioè non riesco a toccarla con mano questa cosa non lo so mi dà fastidio mi dà fastidio poi un'altra cosa che arrivi a fondo è capire come mai da Torino escono intercettazioni a livello mediatico esce di tutto l'intercettazione banalmente è la Consob Lello è il discorso che parte l'indagine Consob procura si attiva e allora ci possono essere intercettazioni non posso intercettazioni cioè i contenuti comunque si ci sono delle intercettazioni come arrivano come arrivano i giornali dici te altro discorso come arrivano i giornali ma poi oltretutto ragazzi ora lasciamo stare qua ci sono delle possibilità in termini di pene illecito eccetera e si andrà avanti questi stipendi eccetera quante volte siamo stati in mezzo anche ad altri scandali sollevati e polveroni inutili che sono poi risolti con un nulla di fatto là serve che a Torino qualcuno inizia a comprendere come funzionano le cose e inizia in società a ragionare sul come fare male certe cose ovvero se vai in mezzo perché hai dell'osco è giusto che ci vai e la legge è uguale per tutti ci mancherebbe altro certo ma siamo stati messi in mezzo anche delle cose dove la Juve non c'entrava nulla e il nome Juve è sempre stato lì tra siamo stati infangati mille volte tra la questione Andrangheta e i tifosi che non è stata mai spiegata bene alla questione Suarez basta basta perché il danno poi di immagine che ti stai facendo è importante anche la società deve iniziare un po' a difendersi in un modo chiusura a piacere su tematiche anche extra sentenza quello che volete no chiusura a piacere è una piccola statistica è un piccolo dato è tipo un optachino no ci sta che tra l'altro non l'ho scritto io ma l'aveva scritto Antonio Corsa qualche giorno fa per capirci della Juve sono finiti in tribunale i bilanci del 2001 2002 2003 2004 2005 2006 falso in bilancio per plus valenze assolti 2005 2006 2007 2008 falso in bilancio prosciolti 2016 denuncia vittoria 2000 successo un cazzo 19 20 e 21 ci sono stati 4-5 anni di è quello che diceva cioè vi sembra normale siamo stati in mezzo a vicende di indagini e altre cose buttati là a livello mediatico come colpevoli sempre e siamo adesso probabilmente c'è l'unico processo che ha anche senso ma siamo stati da qui al 2000 sempre in mezzo a situazioni di indagine sbandierate 4-20 a livello mediatico non lo so siamo spacciati ragazzi non lo so io ho dei punti in cui mi vengono a dire sì ci mandano in B dei punti in cui mi vengono a dire no la B è veramente cioè il rischio c'è no no il rischio c'è e io lo temo ma lo temo non per il merito sul campo dici no no io proprio lo temo per l'aria che tira di là perché è evidente l'aria che tira di là l'aria che tira di là è molto evidente no con questo atteggiamento punitivo nei confronti della Juve questa è la cosa che mi spaventa di più ma per un semplice motivo che la questione della serie B cioè un conto adesso il fatto che tu vada ad assegnare dei punti di penalizzazione devono a parte gli scherzi essere comunque anche proporzionati rispetto agli illeciti che vengono commessi no? beh certo Lello prima parlava e diceva dei tre punti di penalizzazione per il Chievo però in realtà non sono stati quei tre punti di penalizzazione che gli hanno fatto andare in serie B o meglio la somma delle operazioni che loro hanno commesso e hanno fatto hanno compiuto portava alla iscrizione del campionato questo con la Juventus non può avvenire per quale motivo per quale motivo ne parlavo l'altro giorno sul canale di Fabiana gli ho fatto la domanda esplicita nel momento in cui si apre questa questione si comincia a guardare anche il tema patrimonio certo per cui credo che la Juve possa dormire sonni tranquilli no? che era positivo anche nell'ultimo messo a capo quindi cosa significa che per essere per avere la retrocessione ci deve essere una somma di punti di penalizzazione fra questi 15 e quelli che ci daranno a maggio che fa sì che la Juventus arrivi nelle ultime tre certo però allora dico se da un lato son sereno perché la roba dell'iscrizione mi son messo un po' il cuore in pace sono abbastanza sereno da quel punto di vista e se io vedo che da questa parte qua per queste plusvalenze ci cominciano a dare 15 punti di penalizzazione se l'area è questa di là che cosa combinano di là che cosa combinano perché esatto perché la retrocessione c'è scritto proprio retrocessione però qua c'è scritto uno più punti e se li metti insieme non è la non iscrizione al campionato quella della Juve ci salta fuori non è quello il tema è il tema che se tu fai 15 più 20 non so se la Juve rimane fuori e se fai 15 più 40 non so se la Juve rimane fuori dalla zona della retrocessione è dopo lì giustamente però se chi è che ci chi è che ci difende che ci garantisce che questo non avvenga nel momento in cui i punti che vengono afflitti alla Juventus sono totalmente casuali e randomici nessuno ce lo garantisce per cui se l'area deve dire questa finito no ma è più che altro dopo lì semplicemente sappiamo no che è stata chiesta la proroga di 40 giorni quindi si arriva fine aprile aprile sì perfetto quando ti danni punti salti direttamente lo step vai direttamente al tar e blocchi tutto e poi vediamo va bene niente cioè se ti vuoi difendere veramente coi controcoglioni altrimenti dici spano le natiche abusane non lo so ma io guarda finisco con una considerazione che è quella che c'era Davon prima che il fatto che abbiano fatto degli errori penso che sia stato fuori da ogni dubbio e secondo me la conferma ce la danno i 700 milioni di aumento di capitale che sono stati fatti in due anni perché una società che va bene che viene gestita bene nonostante il covid nonostante quello che volete non lo può fare non può mettere un miliardo di euro con tante liquido dentro perché sennò salta per aria però a me viene anche da ridere quando mi dicono che noi abbiamo potuto comprare Vlaovic abbiamo potuto iscriverci al campionato abbiamo potuto vincere lo scudetto fare degli acquisti per via delle plusvalenze quando si parla di 60 milioni di plusvalenze contestate e leggevo che anche Kino l'altro giorno aveva riportato questa cosa perché sono 60 milioni di plusvalenze pt se contestate su mi pare 300 milioni di quel triennio di plusvalenze totali su oltre 1600 milioni di euro fatturati in quei tre anni lì ma perché aspetta ma scusa ma esci dal giardino italiano ci sono ci sono dei bilanci ci sono delle operazioni in giro per l'Europa ragazzi che rispetto rispetto a quelli lì quello della Juve è un cazzo di bijou ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma ha preso vantaggio di cosa a livello sportivo vantaggio di cosa di cosa stiamo parlando io io quello che dicevo l'altro giorno è un processo sportivo che di sportivo non ha niente è un processo sportivo che usa il regolamento sportivo ma ha degli elementi di tutt'altro tipo però Luca qui cioè secondo me bisogna fare una lezione di cultura perché è giusto prendere una citazione di Gandhi i seguaci di Ziliani a destra le persone normali a sinistra quindi nel senso cioè qui si tiravano in ballo nove scudetti quando per sei hai creato una squadra su 40 milioni di euro ah circa c'è nel senso quando si comprava in giocattura 15 milioni ti sfregavi le mani in primi anni cazzo la passa gioia quest'anno va bene ragazzi vi ringrazio per questa discussione tutti insieme non lo so se volete dire qualcosa in chiusura se no andiamo da Pyongyang è tutto da Pyongyang è tutto va bene ovviamente i canali dei ragazzi è una massima è una massima in descrizione un abbraccio dai forza Juve che il momento è brutto ma siamo qua e saremo sempre qua